Il Viale Garibaldi si sta colonando con il lavoro di 400 bambini e bambini, ragazze e ragazze che frequentano la scuola Marmotti e la scuola Vittorio Veneto. È una giornata che rientra nel più ampio programma di partecipazione legato alla strategia urbana a Bicura che noi abbiamo presentato diversi mesi fa a Regione Toscana e che è stata premiata con 10 milioni di cui 8 trasferite dalla comunità europea. 1 milione e 8 sono le risorse destinate alla riqualificazione finale di Viale Garibaldi, noi stiamo facendo un percorso di partecipazione con la città e ci è sembrato utile condividere con una parte importante dei proiettori di questa strada che sono gli studenti e le studentesse che frequentano le due scuole. Ecco questa giornata di partecipazione, di colore perché noi vorremmo una strada che renda anche più accessibile l'arrivo alla scuola e che sia anche colorata e a misura di bambini e di bambine.